Certo che il fatto di avere una nuova generazione di politici come quella rappresentata dal presidente Dimitri Medvedev e Barack Obama è certamente un buon punto di partenza. Credo, anzi ne sono sicuro, che questo renderà più facili i rapporti. Ho detto al presidente che Obama ha tutto per poter andare d'accordo con lui, perché è giovane, è bello e anche abbronzato. E quindi penso che si possa sviluppare una buona collaborazione. Certo che non si può fare una nuova generazione, ma non si può fare una nuova generazione. Certo che mi si può fare una nuova generazione. Ah 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 Ha ha ha!